Tutti i giorni i Tiburtini attraversano questo ponte sul fiume Aniene che nasce al confine fra Abruzzo e Lazio per sfoggiare nel Tevere. Il corso d'acqua è legato ad un'antica leggenda, quella del re italico di origine etrusca Anio. La vita del sovrano muta quando Cateto, capitano della guardia reggia, rapisce per amore la figlia di Anio, Salea. Il re prontamente parte per liberare la giovane, ma giunto proprio su questo corso d'acqua è fermato da un violento temporale. L'incurrente del pericolo decide di attraversare le onde, ma la corrente è talmente forte che di lui si perde ogni traccia. A volte si racconta ancora oggi che il lamento di Anio si ode quando il fiume è in piena. Fernando, Giacomo, Isabella, Tivoli. Grazie. 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 Grazie.